bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi da pochi minuti sono tornati online i server di fortnite la patch 4.4 è finalmente arrivata ci sono un sacco di novità ragazzi la prima subito così andiamo nell'armadietto andiamo nelle nostre skin ragazzi e se guardiamo possiamo metterci sullo spaccato sul carburo come vedete ragazzi gli ha un loghino qua in basso modifica stile possiamo modificare il colore del carburo ragazzi giallo verde rosa possiamo cambiare le cose lui addirittura ci fa vedere com'è senza maschera le possiamo togliere possiamo arrivare fino alla fine e questa è la prima cosa io il mio carburo lo voglio giallo mi piace mi piace mi piace hanno aggiunto ragazzi anche ovviamente nulla per quello che riguarda le sfide della settimana ma hanno aggiunto una nuova mappa e se non ricordo male hanno aggiunto la sfida tra cecchini eccoli qua ragazzi in singolo o in coppia e abbiamo ragazzi 50 v50 v3 quindi ragazzi una nuova mod 3 nuove modalità anche se in realtà le avevamo già viste nella mappa no non voglio il carburo non voglio il carburo voglio 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 il mio frank il punk andiamo a vedere questa nuova mappa ragazzi andiamo a vedere questo nuova location vediamo 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 non hanno aggiunto come ci aspettavamo ragazzi la modalità parco giochi purtroppo ve l'avevo anche già anticipato che non sarebbe arrivata la modalità parco giochi con questo update secondo me non la vedremo ancora per un po' è stato introdotto il nuovo fucile termico quindi ragazzi attenzione attenzione e andiamo subito a vedere che cosa c'è di interessante vediamo subito la nuova location allora vediamo 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 apriamo la mappa guarda guarda ma in alto nuovo parco nuovo campo da calcio raga mamma mia ci sarà il delirio lo andiamo a vedere si 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 lo andiamo a vedere ci sono anche delle modifiche ragazzi al al meteorite mi hanno detto ma noi andiamo al campo da calcio di prepotenza lo voglio troppo vedere lo voglio troppo vedere ragazzi andiamo di andiamo a vederlo andiamo a vederlo ragazzi questo nuovo campo da calcio ovviamente è ovvio che sia un omaggio ai mondiali di russia 2018 che inizieranno se non sbaglio fra un paio di giorni dovrebbe essere la prima partita il 14 se non ricardo se non ricardo male forza 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 voglio vedere voglio vedere questo campo da calcio con voi in anteprima ragazzi voglio proprio vedere che cosa ci riserva attenzione attenzione ragazzi attenzione ce la facciamo raga ce la facciamo ce la facciamo 6 secondi 5 non vedo l'ora non vedo l'ora di vedere il campo da calcio dai 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 vediamo un po' vediamo un po' ragazzi che cosa c'è di nuovo allora guardalo 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 scenderei in mondo a campo da calcio vai tutti a campo da calcio tutti a campo da calcio forza 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 oh mio dio hanno messo un campo da calcio vicino a un campo da calcio non ci posso credere Andiamo a vedere Andiamo a vedere Il Il Pleasant Park Il Parco Pacifico Ragazzi Sembra Tutto uguale Vediamo Guardalo 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 Attenzione Attenzione Grazie Giuse Sono in live ragazzi Sentirete la musichetta Delle donation Vediamo questo campo da Guardalo È meraviglioso Here comes the money Attenzione Attenzione Guardalo C'è fuori il camion Dei panini C'è la cinepresa No vabbè Questo è un campo da calcio Vero ragazzi Questo è un campo da calcio Al cento per cento Ragazzi Si stanno già Scannando di prepotenza Andiamo a vedere Un po' C'è di interessante Aiuto Via Ma perché mi devi Ma ti sembra normale A me questo non sembra normale A me questo non sembra normale Voglio rivedere il campo da calcio No È cambiato anche il battle bus Poi lo vediamo Poi lo vediamo bene Poi il campo da calcio Lo vedrete meglio anche voi Si può achillarmi così Vediamo il bus della battaglia Ragazzi Vediamo 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 un pochettino Il bus della battaglia Come è cambiato E poi ci dirigiamo Al meteorite Hanno detto che c'erano Cambiamenti Anche al meteorite Vediamo il battle bus È cambiato di brutto Aspetta Guarda Guarda Vabbè Aspetta Hanno cambiato il bus della battaglia Ragazzi Hanno cambiato il bus della battaglia Un momento Un momento Guardate L'hanno L'hanno ingrandito di brutto È un blindato Che cacchio gli ha È distrutto È in riparazione Ma è in riparazione Ma perché è in riparazione Il bus della battaglia Un momento Che intanto Mi prendo la Mi prendo lo screen Del battle bus Raga Ma Ma guarda che roba Completamente cambiato Completamente cambiato Ragazzi Il battle bus Incredibile Incredibile Vado a prendermi la skin Un momento Cioè volevo dire Non la skin Volevo dire Il bus Guarda che roba Guarda che roba Completamente nuovo Completamente nuovo Andiamo a vedere il meteorite Raga Andiamo a vedere il meteorite Vediamo che cosa è cambiato Guardate Gli hanno messo Non capisco Quale sia la differenza Cioè Ha il muso aperto Quindi hanno cambiato Lo stanno riparando Hanno messo un mini dirigibile Hanno messo Voglio vedere la meteorite Voglio vedere il meteorite Ah Probabile ragazzi Ci dicono in chat Probabilmente il meteorite Ha colpito il battle bus Raga Può essere Può essere Andiamo a vedere Questo nuovo meteorite Raga Hanno detto che ci sono Delle news anche lì Andiamo a vedere Andiamo a vedere ragazzi Andiamo a vedere La meteora Oh mio dio Oh mio dio Andiamo a vedere il meteorite Ragazzi Prepotenti così Prepotenti così Raga Un sacco di news Per questo aggiornamento Veramente Un sacco di cose Nuovissime Ci continuano a stupire Ragazzi Gli sviluppatori Di Tutti Games Ok Se ne vanno tutti dal magazzino Qualcuno entra Voglio vedere Il meteorite nuovo Voglio vedere il meteorite nuovo Guarda Guarda che scendono Guarda che scendono Sarà un po' difficile Andrà a vederlo Ragazzi Vediamo Proviamo a spaccare dall'alto Ok C'è gente che scende Non atterrare sul tetto Spacca tu Ok Vediamo il meteorite Meteorite è completamente aperto Raga Meteorite è completamente aperto Oh mio dio Oh mio dio Deve andarsene qua Guarda Guarda C'è aperto il meteorite Un momento Guarda il meteorite Guarda il meteorite Guardalo È uscito È uscito No Non mi dire che ho fatto È uscito il meteorite È uscito È uscito Lo spacca tutto Raga È uscito Lo spacca Ho fatto un'immagine Che è bellissima Ragazzi È uscito Lo spacca tutto Ragazzi Incredibile 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 Ragazzi Quanta roba In questo Nuovo Update Beh ragazzi Il video termina qua Io vi ringrazio tantissimo Per averlo guardato Vi mando Un abbraccio forte Mi raccomando Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in live Ciao 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 Ciao